Capitolo primo, che tratta del luogo in cui Oliver Twist venne alla luce e delle circostanze relative alla sua nascita. È un romanzo estremamente sonoro. Si sente che è stato fatto per essere letto ad alta voce. Quale eccellente esempio del potere dell'abito fu il giovane Oliver Twista? Avvolto nel panno che fino a quel momento aveva formato la sua unica copertura, sarebbe potuto essere il figlio di un nobiluomo come di un accattone. Difficile sarebbe stato per il più altezzoso degli estranei attribuirgli la corretta collocazione nella società. Ma ora che era avviluppato nelle vecchie fasce di tela che nel corso della loro sempre uguale funzione erano diventate giallastre, era ormai catalogato ed etichettato e rientrò di colpo nel suo posto il trovatello del comune, l'orfano dell'ospizio, l'umile bestia da Soma, mezzo morta di fame, destinato a transitare per il mondo a sberle e scapaccioni, disprezzato da tutti, compatito da nessuno.